ciao a tutti e bentrovati benvenuti sul mio canale qui in di 87 nel video di oggi voglio parlarvi di un coltello che ho preso recentemente e che devo assolutamente mostrarvi faccio una precisazione iniziale in quanto ci tengo a dire che non sono un collezionista di coltelli tradizionali diciamo che non è il ramo della coltelleria che più mi appassiona come sapete ovviamente in quanto diciamo che il coltello lo uso più in situazioni di outdoor di trekking e di uscite in natura quindi propendo un po più per coltelli a lama fissa coltelli da sopravvivenza eccetera eccetera però devo dire che sono stato molto colpito da da questo coltello soprattutto perché è un coltello ricco di fascino e di storia ha iniziato tutto con il regalo di un amico in questo caso claudio che mi ha regalato questo coltello definito pescatore l'ultima volta che ci siamo visti e che lui stesso era in possesso di quest'altro coltello che vi sto per mostrare ora da qui no sono stato fregato perché ecco mi ha fatto vedere questo semplicissimo coltello che comunque ho trovato molto ben rifinito molto ben realizzato tanto che ho detto adesso la prima occasione utile devo assolutamente prendere uno anch'io e così l'occasione si è presentata mi sono recato a san benedetto del tronto dove un mio appunto conterraneo realizza coltelli artigianali interamente realizzati a mano di tipo tradizionale e oltre a fare un ottimo servizio di affilatura che devo dire poi vi farò vedere stiamo parlando di giovanni nista conosciuto da tutti come nino nista come vedete questo è il suo cartellino qui è rappresentato dove c'è tutta la storia diciamo un po della delle sue realizzazioni artigianali il coltello che ho preso è praticamente ricco di di fascino mi ha colpito davvero tanto la prima volta che l'ho visto e stiamo parlando di un romano di un romano a tre scrocchi definito anche serratore o santa smacola coltello estremamente diciamo se vogliamo dire semplice se confrontato ovviamente con folder moderni con blocchi di tutti tipi dal liner all axis al vari spider co benjamin eccetera però questo qui era un coltello che accompagnava le persone si 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 diciamo si attesta anche addirittura dal 1600 sono stati trovati degli esemplari comunque negli anni tra l'ottocento i primi novecento lo stato pontificio a roma dove era molto molto popolare avere un coltello di questo tipo in quanto come anche un aneddoto similare alla navaglia spagnola i nobili potevano portare le spade mentre mentre al popolo era vietato e quindi le le persone hanno cercato la necessità di avere un coltello chiudibile abbastanza efficace perché comunque erano frequenti degli scontri all'arma bianca nelle taverne o nelle osterie quindi bastava veramente poco per innescare una uno scontro che poi nella peggiore dei peggiore dei casi si risolveva all'arma bianca con il coltello quindi questo coltello doveva ricoprire sia una funzione di utilità ma anche una funzione di difesa offesa quindi diventava proprio il compagno di ogni di ogni giorno così catturato da questo fascino sono mi sono regato appunto a san benedetto del tronto da ninonista dove in una piccola bottega vengono realizzati degli esemplari di tutti i tipi dal mare in mano al pescatore al coltello romano e dove appunto due ragazzi pier giorgio e fabrizio mi hanno praticamente accolto e da lì abbiamo iniziato a parlare mi hanno fatto vedere diversi lavori perché di questi coltelli queste tipologie di coltelli ne producono di diversi tipi con diverse caratteristiche diverse particolarità io vi mostro questo che ho preso io che mi è piaciuto veramente mi piace veramente tanto ripeto nonostante io non sia un amante del coltello tradizionale il coltello è appunto come vi dicevo il romano da 28 centimetri totali abbiamo una lama da 12 centimetri e mezzo quindi tre scrocchi quindi è una lama che va a bloccarsi con questo meccanismo questo tutto realizzato interamente a mano è tutto completamente fatto a mano e il manico è in bufalo e la lama in questo caso in acciaio inox 420 hc tembrato a 58 hrc qui c'è tutta la caratteristica delle caratteristiche del coltello come potete vedere tutta la storia tutto le caratteristiche tecniche e il cartellino appunto dell'artigiano giovanni nista il padre poi c'è fabrizio e piergiorgio che lavorano nella piccola bottega dove realizzano questi questi coltelli tradizionali e appunto si trovano a san benedetto del tronto nelle marche quindi vedete qui i dati tecnici del coltello come vi dicevo coltello con una lama da 12 centimetri e mezzo e questa è la versione da 28 poi c'è una versione più piccola una versione ancora più grande tre scrocchi quindi 1 2 e 3 e abbiamo il coltello in posizione aperta vedete coltello lavorato veramente veramente bene il coltello non ha nessun tipo di movimento né in un senso né nell'altro veramente preciso realizzato molto bene come vedete bellissime anche queste trame sul sul bufalo veramente bellissimo il coltello è fisso è bloccato vi faccio vedere anche la dote di affilatura perché ha fatto anche un servizio affilatura per un altro coltello che non tagliava praticamente nulla e suoi coltelli tagliano veramente come rasoi vedete coltello veramente affilatissimo era un coltello appunto è un coltello molto leggero devo dire adesso non saprei quantificare non l'ho pesato ma penso che siamo forse intorno ai 100 grammi forse anche meno e questa linea bellissima molto lineare molto veramente bello guarda di particolare nel manico è un coltello veramente stupendo nella sua semplicità devo dire che è veramente bellissimo guardate qui tutto ribattuto questo è il sistema di sgancio che adesso vi andrò a mostrare e qui viene bloccato da due viti è un coltello appunto che era presente nel quotidiano del popolo pontificio durante il periodo pontificio che accompagnava le persone fungeva sia da utilità quindi passia parlavamo dal tagliare il salame quindi o il pane o piccoli lavori a l'aspetto difensivo e offensivo no c'è una storia anche abbastanza romantica dietro questi coltelli dove si parla che venivano regalati tra innamorati no che la donna solitamente doveva regalare il coltello all'uomo ma succedeva anche il contrario e che poi lo accompagnava nella vita appunto è un coltello appunto che devo dire a me ha rapito veramente è stato sovente trovare questi coltelli anche nelle chiese nel torno al territorio romano perché la tradizione vuole che a volte durante appunto questi scontri il diciamo l'assassino si pentisse del suo del suo reato di quello che aveva fatto andasse in chiesa no una rissa finita male cercando di trovare appunto la grazia della madonna e come pegno di penitenza lasciasse il coltello infatti molti questi antichi coltelli sono stati trovati nelle chiese praticamente attorno al territorio romano appunto è un coltello bellissimo devo dire a me ha colpito tanto anche perché per la precisione la robustezza come vedete è bellissimo la linea stupenda praticamente lo sbloccate in questo modo qui c'è un anello metallico ovviamente parliamo di un coltello antico ovviamente per quelli di noi appassionati appunto dei coltelli di ultima generazione ovviamente guarderanno questo coltello un po però il fascino che ha questo coltello a parer mio non è paragonabile con il fascino dei coltelli moderni non me ne vogliate ma qui è intriso proprio di storia il coltello quindi è molto empirico è ovvio lo dovete aprire non è un'apertura flipper non è un'apertura rapida per sbloccarlo si prende l'anello in questo modo almeno questo che ha un'apertura abbastanza ha un blocco abbastanza tenace si prende l'anello in questo blocco si va a creare una pressione dal palmo della mano si spinge in su l'anello in questo modo e il coltello viene chiuso ok per aprirlo come vi ho fatto vedere prima i famosi tre scrocchi dove a volte appunto si accomuna il fatto che quando si vedeva l'aria che tirava c'era il primo scrocco e lì si poteva ancora tornare indietro c'era il secondo e poi se invece poi la situazione degenerava il terzo scrocco e voleva dire che non era più riparabile ecco si doveva risolvere all'arma questo appunto è la versione da 28 centimetri viene realizzata anche una versione da 23 centimetri di lunghezza e anche da 33 centimetri che è veramente grande qui ho anche il listino poi ve lo faccio vedere qui ci sono alcuni modelli in generale che vengono realizzati come potete vedere quindi parliamo dal mare in mano al gobbo al insomma ce ne sono gobbo di loreto pescatore con blocco pescatore semplice qui vedete tutte le caratteristiche e qui anche posteriormente ecco di questo di questa versione di coltello di questo romano questa è la versione classica con la lama piana che io ho preferito per un discorso anche di usabilità nel tempo di riaffilatura eccetera però c'è anche una versione bellissima che non vorrei dire ma forse un'esclusiva di minonista che presenta praticamente il controfilo superiore ovviamente non è affilato questo però c'è una scanalatura al centro lama e poi parte la bisellatura del filo è veramente spettacolare spettacolare io ho preferito questo perché era il primo è un po una versione che posso che voglio utilizzare cioè che volendo voglio posso magari usando per piccoli compiti di utility anche per la riaffiliabilità è un po più pratica essendo a piatto di lama normale classico vedete coltello bellissimo corredato con tutto il suo certificato la garanzia ovviamente è un coltello artigianale coltelli artigianali nino vedete e qui ci sono un po di lestini questo classico se un diciamo che sono coltelli per questa misura qui che viaggia intorno alle 200 euro pressa poco più o meno ma poi ci sono coltelli da tutti tre tutti i prezzi andiamo dal pescatore classico dalle 25 euro quello più piccolo e poi via via salendo insomma devo dire che nino per le realizzazioni che fa fa coltelli veramente a un prezzo ottimo e veramente belli veramente belli tradizionali e devo dire ragazzi io vi ripeto pur non essendo un appassionato di coltelli tradizionali però sono stato catturato anche ahimè anche in questa in questo picco questo mondo della coltelleria perché comunque un mondo ricco di tradizione questi questi queste realizzazioni proprio trapelano tradizione quindi è giusto anche non perderla per strada ecco diciamo perché sono reperti proprio di storia realizzati e oggi con appunto con le accortezze di oggi di tempra eccetera però sono veramente oggetti ricchi 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 di storia niente io vi invito se passate nelle marche appunto andare nella piccola bottega che veramente dovete trovate l'indirizzo su internet e tutto san benedetto del tronto dove nino e suo figlio e i collaboratori che lavorano con loro vi mostreranno tutti gli altri coltelli che ovviamente quelli che sono esposti ne sono una piccola quantità poi loro fanno anche coltelli su ordinazione se preferite il manico chiaro e la lama in c70 piuttosto in 420 loro prevalentemente usano questi tipi di acciai che devo dire però trattano molto bene perché questo anche pescatore io devo dire se lo ho da qualche mese l'ho usato anche per sul legno su cibo su e il coltello taglia ancora veramente bene io non l'ho proprio dovuto riaffilare per niente il coltello taglia veramente bene come vedete sono cioè devo dire che lo trattano veramente bene stessa cosa ecco io dimenticavo fatto io ho fatto affilare questo coltello che praticamente poi recensirò perché è stato chiesto è arrivato questo ontario praticamente non aveva il filo non tagliava nemmeno la carta ci sarebbe stato un lavoro da fare a pietra era proprio ottuso sul bordo necessitava di un lavoro a pietra veramente notevole da fare quindi visto considerato che era andato giù e sa vede avevo visto come affilava i suoi coltelli perché io solitamente devo dire sono molto restio di arrotini eccetera perché l'arrotino deve essere molto in gamba per fare un buon lavoro da filatura è capitato spesso che arrotini abbiano rovinato dei coltelli lui ovviamente sapevo che realizzando questi fili questi coltelli super affilati con queste particolarità di lama avrebbe non avrebbe avuto problemi così mi sono io appunto ho voluto che mi riaffilasse il coltello il coltello lontario qui è diventato veramente anche lui un rasoio praticamente mi ha fatto un ottimo un ottimo servizio di affilatura come vedete è diventato è migliorato tantissimo il coltello prima non tagliava veramente io lo passavo sulla carta non tagliava niente 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 che dire ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere le vostre impressioni di questi coltelli particolari sicuramente molto belli spero che lo troviate interessante comunque questo uscire un po dalla classico coltello lama fissa comunque coltelli moderni e perché no valorizziamo e coltiviamo anche la storia dei coltelli tradizionali italiani che veramente è veramente ricca di storia ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ciao 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 ciao